Menina, ma tu dentro mi senti più sottacento un pomodoro! Risate garantite, ma anche un'occasione per riflettere sui grandi tesori di Sernia e sulle tante occasioni perse per promuoverli e creare uno sviluppo turistico reale che vada oltre i buoni propositi che si ascoltano da decenni. Questo in sintesi il senso della commedia Come tirapino il dentino. Scritto da Maurizio Veneziale, lo spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale Cast prende spunto proprio dal ritrovamento del dente da latte nell'area degli scavi del Paleolitico risalente a 600.000 anni fa. Parliamo proprio di una commedia con il linguaggio che usiamo quotidianamente oggi e non una volta quindi è dare proprio quel senso di contesto isernino facendo girare il tutto naturalmente intorno a qualcosa che i segni dovrebbe valorizzare come proprio patrimonio cioè questo famoso dentino preistorico e su cui cerchiamo di dare il nostro contributo valorizzandolo in questo modo. Giustamente ai segni non è che abbiamo tante chance, tante fonti di ispirazione quindi diciamo che casualmente è nata questa idea del dentino ne parlai a Salvatore che Salvatore ne ha colto subito il senso positivo e mi ha dato tre mesi di tempo per scriverla. La regia come sempre è stata affidata a Salvatore Mincione Guarino. La trama è diciamo semplice nel senso che una banda di scalcagnati capeggiati dal nonno, lo faccio io in questo caso cerca di, avendo saputo del dentino del Paleolitico decidono di fare il colpo del secolo tipo Operazione San Gennaro cercando di rubare il dentino del Paleolitico sostituendolo con un altro. La commedia portata in scena all'auditorium di Sernia ha permesso al pubblico anche di apprezzare il buon lavoro svolto in città dall'accompagnia teatrale Cast negli ultimi anni ha portato una ventata di freschezza e di cultura rappresentando un valido punto di riferimento per tanti ragazzi. Gran parte del nostro lavoro è incentrato sulla scuola di teatro che oltre a far crescere dei ragazzi ci consente di avere uno zoccolo duro anche per la compagnia, per l'inserimento nei nostri spettacoli anche perché poi permettiamo ai ragazzi di esibirsi svariate volte sul palcoscenico del proscenio ma però li portiamo anche in giro perché per fortuna riusciamo a lavorare anche fuori quindi questa è una cosa importante che fa crescere noi, fa crescere i ragazzi della scuola di teatro.